Benvenuti e bentrovati, qui è Paradoxa per gli amici para in un video di presentazione 2.0 Doveroso per il semplice fatto che quest'anno ha portato e sconvolto con tantissime novità Prima di tutte quella di aver abbandonato momentaneamente la professione di artista di strada Cosa che secondo me è stata proprio un naturale evolversi degli eventi di quest'anno Ma devo dire con sommo giubilo ho intrapreso una scelta felice Ossia quella di riniziare l'università, meglio ancora Scienze Naturali Con questa rinnovata passione e curiosità per lo studio ho deciso finalmente di mettermi nuovamente in gioco All'età di 30 anni e mi sento un vocchietto tra i giovani Soprattutto per il fatto che c'è un gap generazionale sulle conoscenze che ho accumulato al mio liceo E quelle odierne che mi hanno sbalordito Dietro di me potete già notare alcuni apparecchi che saranno fulcro del canale futuro Dato che voglio cambiare totalmente l'intrattenimento e la tipologia di contenuti su questo canale Che sarà finalmente di divulgazione scientifica in maniera pressappochista Ora io spero che potrete insieme a me continuare questo percorso di formazione Di curiosità che sto cominciando a realizzare E soprattutto che potrete vedere l'evolversi Non solo delle tecnologie in cui io mi cimenterò Dato che siamo nel 2020 io sto ancora uno dei pochi che non c'ha il ring all'ad Un cavolo di treppiedi No il treppiedi ce l'ho ma si è rotto Insomma farò tanti nuovi acquisti e investimenti nuovamente su questo canale Ma non solo a livello di strumentazione anche di contenuti Soprattutto qualcuno di voi già avrà forse intuito che il canale portante O almeno i contenuti portanti di questo canale saranno elementi di scienze naturali Passeremo dalla zoologia alla geologia alla geografia alla mineralogia C'è tutto quello che mi interessa da anni ma che ho sempre mantenuto un po' segreto In questi tesori nascosti E mi permetto questo unico taglio per ringraziarvi Veramente grazie di cuore per avermi sostenuto tutto questo tempo Quindi i vostri like, i vostri commenti, le vostre condivisioni E spero che questo sia l'inizio di un nuovo fantastico viaggio In cui cercherò finalmente la mia strada Che per molto tempo ha smarrito in questo viaggio itinerante lungo l'Italia Ora cercherò insieme a voi di affrontare la bellissima esplorazione Delle scienze naturali E sono fomentatissimo per questo Quindi veramente grazie E ci vediamo presto con nuovi video Spero Soprattutto momentaneamente Rinerenti alla zoologia Quindi grazie E alla prossima Ciao Ciao Ciao